...qualcosa e scorgo dai corpi, anzi, dalle masse in forme alterate come maschere, dipinte con colore dello sastro. Per quanto posso, punto meglio il mio sguardo sul corpo più vicino e noto un lento, continuo a sgorgare di sangue, dalle tante ferite che rendono la sua schiena una poltiglia in forme. Con uno sforzo cerco di sollevarmi, traballo, cado sui ginocchi, vorrei stendere le mani, le mani no, non posso aiutarmi, sono legate dietro la schiena col filo di ferro, ci spingono ad uscire, avanti, avanti. E' da la pace con noi, E' da la pace con noi, E' delus shanom, shanom, shanom malayem, E' de pizpibidat, E' de pizpibidat, E' de pizpibidat,